E' tempo di saldi non solo per il settore abbigliamento col Diretti Puglia, annuncia anche l'avvio dei saldi per i prodotti alimentari, per ortofrutta, vini e spumanti, un modo per andare incontro alle famiglie in difficoltà a causa del Covid. Marilena Pastore. Non solo vestiti e scarpe, i saldi prendono il via per gli acquisti dei prodotti tipici delle feste di Natale, offerti con sconti fino al 70%. Non mancheranno offerte locoso su ortofrutta, olio e conserve per venire incontro anche alle famiglie in difficoltà per il Covid. A renderlo noto è la Col Diretti Puglia, in occasione dell'avvio della stagione dei saldi a far data dal 5 gennaio scorso in Puglia. La Col Diretti fa presente così l'opportunità di risparmiare anche sulla tavola, ma per motivi esclusivamente commerciali, che dunque non influiscono in alcun modo sulle caratteristiche qualitative dei prodotti. Molti alimenti, tipicamente natalizi, che non possono essere conservati per il prossimo anno, tra i quali soprattutto panettoni, pandori o dolci tipici, ma anche frutta secca o spumanti, secondo formule diverse, possono essere offerti anche con sconti rilevanti, che possono arrivare fino al 70%. Offerte di grande qualità per i prodotti artigianali sono disponibili anche nelle aziende agricole, negli agriturismi e nei mercati degli agricoltori di Campania Amica. Occhio sempre alla scadenza, le date devono essere sempre obbligatoriamente indicate nelle confezioni per evitare di consumare prodotti vecchi.